Rosa Casto è stata confermata al vertice della Federazione dei Pensionati iscritti alla CISL della Gallura al termine dell'undicesimo congresso che si è svolto nella sala conferenze dell'hotel Pausania Inn di Tempio. All'appuntamento hanno partecipato Emilio Di Donè della Segreteria Nazionale della FNP CISL, Alberto Farina, segretario generale regionale della stessa confederazione sindacale e Mirko Idili, segretario generale della CIS Gallura. Esploratori del futuro è stato lo slogan scelto dalla FNP CIS Gallura per il congresso territoriale e che disegna il futuro della Federazione dei Pensionati che rivendica un ruolo da protagonista nelle scelte progettuali e sociali legate alla PNRR. I temi centrali di questo congresso, ha spiegato Rosa Casto, rappresentano le battaglie che la FNP CIS Gallura intende portare avanti. La riforma delle pensioni necessaria per porre un freno all'imposizione fiscale, la stesura di una legge nazionale per regolamentare la non autosufficienza, il riordino del sistema sociosanitario completamente assente in Gallura con la mancanza quasi totale della medicina di prossimità. Nella sua relazione la segretaria dei pensionati della CIS Gallura ha criticato con forza la situazione devastante della sanità territoriale, uno status quo dovuto certamente alla pandemia del Covid ma anche alla riforma sanitaria regionale che la Casto definisce sciagurata. Sono stati accentrati la maggior parte dei servizi nell'ospedale di Olbia ed è potenziato i nosoccomi della Maddalena e Tempio. Questa scelta ha lasciato scoperto un territorio vasto e impervio collegato da un'infrastruttura stradale già pessima e in ulteriore decadimento. In moltissimi dei nostri paesi mancano i medici di famiglia, i pediatri e quest'estate anche alcune guardie mediche, mancano le case della salute e tutti quegli altri presidi sanitari che permettono di esercitare il diritto alla salute.